Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Nathan Aprile che saluto e spero di rivedere qui a Livorno il prima possibile che mi chiede di parlare di un film bellissimo, un classico, un film molto particolare russo Il colore del melograno di Sergei Parazanov che in questo film onirico, assurdo, surreale, senza alcun movimento di macchina racconta la storia del Settecento del trovatore Armeno Saivyat Nota dall'infanzia alla corte reale, il ritiro in convento e alla sua morte Il film è un film diviso in varie sezioni, introdotti da Pannelli che tra l'altro hanno delle poesie di Saivyat come introduzione I capitoli sono infanzia, giovinezza, la corte del principe, il monastero, il sogno, l'anzianità, l'angelo della morte e morte In tutto questo il nostro regista russo utilizzando in maniera surreale e completamente folle anche alcune opere cercando di spiarsi a livello visivo alle opere scritte di questo grande poeta Un film biografico certo di quelli però difficilissimi messi in scena come ho detto in maniera surreale non c'è un movimento di macchina, non c'è un macchina a mano, non c'è niente ci sono dei quadretti, ci sono macchina fissa e all'interno degli stessi scorre a livello biografico una narrazione sconsiderata, meravigliosa, surreale, onirica folle che rende il film un'esperienza assolutamente unica uno di quei film che ti rimangono nella testa e vent'anni che non lo vedo ma non te lo puoi levare dalla testa proprio perché racconta la storia di questo trovatore poeta in una maniera così incredibilmente forte, incredibilmente nuova eppure è un film insomma del 1968, un film tra l'altro magnifico un film che è andato completamente dimenticato ma molti critici lo mettono giustamente tra i migliori film del mondo io non so se mettono tra i migliori film del mondo ma è sicuramente un film incredibile, uno dei più originali del mondo il nostro la buttare fuori completamente, a volte l'audio va fuori sincrono con il video a volte troviamo dei dialoghi che sembrano senza sento e poi in realtà sono le poesie appunto del nostro Sayat è un film completamente pazzo insomma però che descrive una biografia che riesce a farci entrare nel personaggio e nella persona e quindi è un film che alla fin fine funziona, un film bellissimo a livello estetico ha fatto tutto praticamente il nostro regista, il montaggio, la fotografia è un film che vola con queste musiche folk, armene è un film stranissimo proprio per come è montato, per come è disarmonico, per come è antinarrativo volutamente, ecco qui siamo di fronte a cinema d'avanguardia, sperimentale, biografica sì ma sempre di fronte a qualcosa di incredibile poi dei colori bellissimi, un modo proprio di mettere in scena completamente pop a livello però russo quindi con una certa fermezza che al cinema americano dell'epoca mancava forse o che era diverso insomma quindi un film per me straordinario, mi metto qui sotto il link, spero, è un film difficile spero che si riesca a trovare ma è un film che insomma andrebbe visto ad ogni costo per capire come il cinema si possa spostare in varie dimensioni dall'intrattenimento becero fino all'arte più pura come è questo film incompresissimo all'epoca ma che lentamente praticamente è diventato un cult anche se per pochi quindi spero che questa mia recensione, grazie a Natan, tirifuori un'altra volta il nome di Sergei Parazanov perché insomma è un nome veramente importante e questo film lo ha reso un mito perché per molti è veramente un film incredibile di iniziazione, io forse sono fra uno di questi molti perché comunque quando lo vedi su fuori orale le ho rimasi veramente folgorate quando l'ho rivisto un altro paio di volte ho pensato questo era veramente un pazzo nel 68 a girare qualcosa di così estremo, così com'è estrema questa ambulanza ultima curiosità post ambulanza l'attrice Sofiko Chiaurei recita praticamente sei personaggi diversi tra cui anche degli uomini quindi grandissimo anche in questo un film completamente pazzo per pazzi che garberà i pazzi e che finalmente riporterà allo sguardo di chi ama un certo tipo di cinema d'avanguardia, all'avanguardia pura, sperimentale che però aveva qualcosa da dire e non era semplicemente spocchia radical chic qui siamo di fronte a un artista che ha creato un film magnifico e che spero insomma che qui sotto metto il link come ho detto mi piace, spedetevi al canale e che spero insomma riporti un po' in auge per modo di dire il suo nome e questa opera meravigliosa